Non prevedere una stazione ad Enna in area urbana proprio in occasione del modernamento della dorsale ferroviaria siciliana sarebbe un'occasione storica mancata per la città, un fallimento della sua classe politica ma anche un esito inaccettabile a fronte delle conoscenze scientifiche e tecnologiche incomparabilmente più avanzate di cui oggi disponiamo. Lo afferma l'Università Core di Enna sottolineando di non potere accettare tutto questo senza intervenire con il proprio patrimonio scientifico e la propria autorevolezza e di mettere a disposizione le proprie competenze scientifiche e tecnologiche. Un Ateneo con una prestigiosa facoltà di ingegneria e architettura spiegano dalla Core non può concepire che nel 2022 non si possa portare una stazione ferroviaria almeno alla stessa altitudine sulla quale venne progettata 150 anni fa ed effettivamente realizzata nel 1876. Ne è credibile che non si possa realizzare un tracciato in galleria diverso da quello sottoposto alle autorità locali e forse troppo ingenuamente approvato nelle diverse conferenze di servizio tenutesi in questi anni alle quali l'Università non è stata mai invitata. Per questo l'Università di Enna lancia un appello alla Regione, ai parlamentari, e a tutti i soggetti istituzionali del territorio, alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, agli ordini professionali, a tutti i soggetti sociali affinché si esca dalla rassegnazione sul progetto della stazione di Calderari con o senza improbabili bretelle e si richieda tutti insieme a Rete Ferroviaria Italiana di rivedere quell'ipotesi e di definire una scelta che sia economicamente utile e veramente produttiva come deve essere qualsiasi investimento pubblico.